Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Signore, mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regine Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna e guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai la mamma e con mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Venga il tuo regno, oh mio Signore, oh mio Signore, oh mio Signore, Cristo Gesù. Venga il tuo regno, oh mio Signore, oh mio Signore. Venga il tuo regno, oh mio Signore, oh mio Signore. Per adorarti nel tuo regno, oh mio Signore. Per adorarti nel tuo regno, Emmanuel. Venga il tuo regno, oh mio Signore. Venga il tuo regno, oh mio Signore. Venga il tuo regno, oh mio Signore. Oh mio Signore, oh mio Signore, oh mio Signore. Capitoli 57 e 58. In questo stato, già detto, passai circa tre anni, continuando a stare nel letto. Quando una mattina Gesù mi fece intendere che voleva rinnovare lo sposalizio, ma non già sulla terra come la prima volta, ma nel cielo alla presenza di tutta la corte celeste e quindi che stessi preparata ad una grazia così grande. Io feci quanto più potetti per dispormi, ma essendo io tanto miserabile ed insufficiente a fare nessun'ombra di bene, ci voleva la mano dell'artefice divino per dispormi, perché da me mai sarei riuscita a purificare l'animo mio. Una mattina, era la vigilia della natività di Maria Santissima, il mio sempre benigno Gesù venne lui stesso a dispormi. Non faceva che andare e venire continuamente, ed ora mi parlava della fede e mi lasciava, ed io mi sentivo infondere nell'animo una vita di fede. L'anima mia grossolana, qual me la sentivo prima, ora dietro il parlare di Gesù me la sentivo leggerissima, in modo da penetrare in Dio. Ed ora miravo la potenza, ora la santità, ora la bontà ed altro, e l'anima mia restava stupefatta. In un mare di stupore, stupefatta, in un mare di stupore dicevo, potente è Dio, qual potenza innanzi a te non resta disfatta? Santità immensa di Dio, quale altra santità, per quanto sublime ella sia, ardirà a comparire al tuo cospetto? Poi mi sentivo scendere in me stessa e vedevo il mio nulla, la nullità delle cose terrene, come tutto è niente innanzi a Dio. Io mi vedevo come un piccolo verme, tutto pieno di polvere, che mi arrampicavo per dare qualche passo, e che per distruggermi non ci voleva altro che uno mi mettesse il piede sopra e il gelo disfatta. Quindi vedendomi così brutta, quasi non ardivo ad andare a Dio, ma si faceva innanzi alla mia mente la sua bontà, e mi sentivo tirare come da una caramita di andare a Lui, e dicevo tra me, se è santo è pure misericordioso, se è potente contiene anche in sé piena e somma bontà. Mi pareva che la bontà lo circondava da fuori, l'inondava da dentro. Quando miravo la bontà di Dio mi pareva che sorpassava tutti gli altri attributi, poi mirando gli altri li vedevo tutti uguali in sé stessi, immensi, incommensurabili ed incomprensibili all'umana natura. Mentre l'anima mia stava in questo stato, Gesù ritornava e parlava della speranza. Ricordo qualche cosa inconfuso perché dopo tanto tempo è impossibile ricordare chiaro, ma per fare l'ubbidienza che così vuole dirò per quanto posso. Quindi diceva Gesù, ritornando alla fede, per ottenere bisogna credere. Come al capo, senza la vista degli occhi tutto è tenebre, tutto è confusione, tanto che se volesse camminare ora caderebbe ad un punto, ora ad un altro e finirebbe col precipitare del tutto. Così all'anima senza fede non fa altro che andare di precipizio in precipizio. Ma la fede serve di vista all'anima e come luce che la guida alla vita eterna. Orda che viene alimentata questa luce della fede? Dalla speranza. Ordi quale sostanza è questa luce della fede e questo alimento della speranza? La carità. Tutte e tre queste virtù sono in estate tra loro, in modo che uno non può stare senza dell'altra. Difatti che giova all'uomo credere alle immense ricchezze della fede se non le spera per sé? Le guarderà sì ma con occhio indifferente perché sa che non sono sue, ma la speranza somministra le ali alla luce della fede e sperando nei meriti di Gesù Cristo le guarda come sue e viene ad amarle. Ci fermiamo qui. I prossimi due capitoli che vedremo nei prossimi giorni, se Dio vuole domani, riguardano le altre due virtù teologali che sono appunto la speranza e la carità su cui Gesù, in questo contesto molto divino, fa una piccola lezione. Allora, qui Luisa si sta disponendo a ricevere un'altra grazia veramente straordinaria che è una sorta di ratifica delle nozze contratte con Gesù, delle mistiche nozze contratte in cielo davanti a tutta la corte celeste. Quindi siamo di nuovo nell'orbita e nell'orizzonte di qualcosa di assolutamente inimmaginabile a noi comuni mortali che però, con uno sforzo che rimane di fantasia senza oggetto perché non possiamo rappresentarci adeguatamente, cosa possa essere una cosa del genere, lontanamente possiamo farcene un'idea. Insomma, è davvero qualcosa di grosso essere presentati al cospetto del cielo come sposa di Gesù. Insomma, ecco, Gesù l'ha esorto a prepararsi, ma poi è lui stesso ad operare questa mistica preparazione attraverso i suoi soliti giochi d'amore. Il mio sempre benigno Gesù viene lui stesso a dispormi. Come fa? Qui siamo ancora alla vigilia della Natività. Va e viene continuamente. Questi giochi di Gesù che va e viene nell'anima, che da un lato quindi la riempie della sua presenza e dall'altro, questa è una cosa fondamentale nella spiritualità, oltre che nella mistica, infiamma, arroventa, alimenta, infervora i desideri. Perché andare è chiaramente causare sommo gaudio, andare via è lasciare l'anima in uno stato di assoluta, come dire, non voglio dire ansia, ma assoluto langore, ecco, il desiderio immenso che presto l'amato ritorno. E' così. Questo è attestato, insomma, in spiritualità. Gesù lo fa apposta. A volte, diciamo così, in maniera ecco, ordinaria, umana, non umana, ordinaria, insomma, ecco, di esercizio della grazia ordinaria, lo fa anche con le anime, magari in una distanza così ravvicinate, quando alterna però, come insegna Sant'Ignazio di Loiola, a momenti di desolazione, a momenti di consolazione. Quindi c'è questo gioco della grazia che in un'anima chiaramente fedele, quindi in un'anima che corrisponde con la grazia di Dio e quindi quando si sente desolata, sta male perché gli manca il suo Signore, produce l'effetto che deve produrre. Appunto, da un lato, riempirla di gioia e di grazie, quando la presenza sensibile, diciamo così, di Dio si fa avvertire, dall'altra, ecco, suscitare questo langore, questo desiderio. Perché l'alimento dell'amore è il desiderio. Quindi uno ama tanto di più quanto maggiormente desidera. E noi sappiamo che Dio è sommamente desiderabile in se stesso, ma non ne abbiamo percezione. In questa vita, un esercizio molto gradito al Signore, che quasi nessuno fa, è desiderare il Paradiso. Ma desiderarlo, desiderarlo, non dire, beh, adesso voglio andare in Paradiso. Quindi, pur nella coscienza, ecco, vediamo adesso qui, ci guiderà Luisa, istruita, diciamo così, e lavorata da Gesù in persona. Quindi il desiderio del Paradiso è una cosa seria, ecco, non è una cosa da dire grossolanamente, oh che bello Gesù, voglio morire per andare in Paradiso. Perché in Paradiso, direttamente, figlioli e mecari, non c'era quasi nessuno. Quindi, il desiderio del Paradiso è sprofondare nel proprio nulla. quindi dire, Signore mio, io per quanto sta in me, dovrei starmi nel purgatore fino al giudizio universale, se tutto va bene, se non di peggio. Insomma, ma questo dirlo credendoci, d'accordo, quindi umiliandoci nel nostro nulla, nelle nostre miserie, ripensando in questo modo sereno, ecco, ai nostri peccati, è come se il nostro Signore se ci trattasse secondo le nostre colpe, come dice la Sacra Scrittura, no? Se considera le colpe, Signore, chi potrà sussistere? Il Salmo 100, il Salmo 10, le Profundis, il 130, no? Chi potrà sussistere? Quindi, se Dio ci trattasse secondo le nostre, il nostro nulla, più il peccato, ci sarebbe ben poca possibilità. E Dio è contento che noi abbiamo percezione nel cuore nascosta, ricordiamo le meditazioni dei giorni precedenti, ignota agli uomini. Questo è un fatto privato tra l'anima e Dio, e però al tempo stesso dice, sì, Signore mio, io sto così, dovrei stare lontano da te, dovrei stare lontano da te. Però desidero talmente tanto vederti che se potessi fare una follia, sognerei addirittura di poter andare in paradiso senza passare per il purgatorio. Se non fosse che voglio stare 200 anni sulla terra per servirti, cosa che dobbiamo desiderare, riparare tutti quanti i miei peccati, non come i pagani che vogliono stare a lunga sulla terra perché non credono nella vita eterna, ma per servire di più il Signore, avere modo di soffrire un pochino di più per Lui, di pregare di più. Però, se fosse possibile, Gesù mio, prescinderei da questa cosa e mi tufferei subito tra le tue braccia, perché il paradiso è stato preparato da Dio per noi. Quindi come Gesù vuole essere desiderato, lo vediamo qui nel regno della divina volontà, e si compiace della compagnia delle creature è così, è in questi beni così grandi, cioè noi non ci pensiamo, insomma, ma gli uomini sono chiamati a un bene così sommo che è godere Dio, adesso qui vedremo, insomma, cioè, lui si ha avuto qualche piccolo barlume che ha la felicità delle felicità, ma agli uomini non gli ne importa assolutamente nulla, nessuno ci pensa, nessuno lo vuole, nessuno lavora per questo, perché il paradiso non è che ci si va in automatico, insomma, per andare in paradiso bisogna essere stati santi su questa terra, non solo santi, ma anche sufficientemente purificati delle colpe che abbiamo commesso, e essere purificati delle colpe che abbiamo commesso, insomma, non è operazione tanto tanto semplice, come sappiamo, il regno della divina volontà non toglie, tante volte lo abbiamo meditato, le esigenze del fiat redimente, ne toglie certamente tutta quanta la teologia soteriologica, perdonatemi questo termine, quindi la teologia della salvezza, è che ha un'idea ben chiara e ben definita di quello che è il peccato e del fatto certamente che il perdono dei peccati richiede il pentimento di un atto della misericordia divina ma richiede anche spiazione e riparazione che è atto della volontà umana codiuvata dalla grazia che toglie per quanto può distruggere conseguenze negative del male commesso in sé e fuori di sé, quindi questo non è tanto facile andare in paradiso, ecco, il pensiero per esempio che si ha oggi anche in certe celebrazioni eseguiali che sono un'offesa a Dio per quanto mi riguarda cioè questo è morto qualunque cosa ha fatto va subito in paradiso ma questo non è un pensiero che dà gloria a Dio questo è un pensiero oserei dire semi blasfemo insomma se non blasfemo del tutto insomma c'è un bene così grande che fai lo svendi a così buon mercato capito cioè come se fosse non sta scritto da nessuna parte che è alla portata di tutti e che si raggiunge qualunque cosa si fa Gesù ha detto di sforzarsi di passare per la porta stretta perché molti cercheranno di farlo ma non ci riusciranno molti resteranno fuori è pieno il Vangelo di parabole che parlano di queste cose no? ecco per ammonire insomma coloro che sono un po' troppo faciloni e grossolani che certamente questo è un grande bene preparato da Dio ma preparato da Dio a coloro che lo amano a coloro che lo desiderano a coloro che vivono in maniera tale da poterlo raggiungere San Pietro nelle sue lettere parla della salvezza delle anime come la meta della nostra fede quindi non come un dato di fatto cioè sicuramente andiamo tutti in paradiso no? è la meta della nostra fede cioè è quella a cui tendiamo salvarci l'anima come la Chiesa ha sempre creduto d'accordo in duemila anni tutti hanno sempre creduto questo qui qual è il compito della è la salvezza delle anime e se è un compito da raggiungere vuol dire che questo non è un dato scontato vuol dire che è in pericolo vuol dire che è tutt'altro che è certo che io raggiungerò questo obiettivo e che se di certo Dio non vuole che stiamo nell'angoscia nel terrore però vuole che procediamo ecco con serietà con timore e tremore dice San Paolo no? attendete la vostra salvezza con timore e tremore quindi non con grossolanità spavalderia faciloneria superficialità il paradiso va desiderato va quindi è tanto questa è la prima cosa su cui bisogna meditare un po' ecco poi vedete come Gesù con la sua presenza provoca un'operazione duplice e sublime dal lato come dire attraverso la sua parola perché la parola di Gesù è efficace è creativa quindi opera una trasformazione percepibile all'anima la trasforma da grossolana a leggerissima rendendola atta e capace di penetrare Dio e i suoi attributi e come lei spiega dice quando mi parla di fede mi sentivo in fondo nell'animo una vita di fede ecco la bellezza di quando Gesù ci parla in questo modo del tutto particolare noi sappiamo che la parola di Dio di propria desaia come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo così la mia parola non resterà senza effetto senza aver compiuto ciò che desidero e ciò per cui l'ho mandata d'accordo ecco qui si vede proprio chiarissimamente Gesù parla di fede e mi sento infondere nell'animo una vita di fede così di speranza e di carità no poi rende l'animo altro punto capace di contemplare i divini attributi tutti e ammira per esempio la potenza la santità e la bontà ecco la potenza di Dio noi dobbiamo sempre pensarci cioè noi crediamo in Dio Padre onnipotente non dobbiamo mai dubitare di questo allora cosa può significare Dio Padre cioè qual potenza innanzi a te non resta disfatta cioè se noi siamo realmente in grazia di Dio viviamo realmente in comunione di Dio vogliamo fare quello che Dio vuole preghiamo usiamo tutti i mezzi per stare in comunione con Lui tutto ciò premesso ma noi non dobbiamo temere di nulla se dovessi camminare in una valle oscura non te però alcun male ma come il demonio è guerrito sta facendo man bassa il mondo adesso è nelle mani sue sì sì è nelle mani sue per divina permissione e per la stupidità degli uomini che moltiplicano nei peccati dandogli potere ma la mia anima non è nelle mani sue se io vivo in questo modo la mia anima è nelle mani di Dio e se il demonio potrà farmi qualche male diciamo così di qualunque sorta è certamente divinamente permesso perché se l'onnipotente non vuole che mi venga un male dal demonio ha due modi o glielo impedisce di farlo senza che io non ne sappia assolutamente nulla senza che me ne accorvi oppure trova il modo di avvertirmi di un pericolo incombente in modo tale che io possa prendere le contromisure se non mi avverte di eventuali pericoli e non fa nulla quel male arriverà e io devo essere fermissimamente convinto se vivo in questo modo perché San Paolo dice che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio amano con la A maiuscola non per scherzo perché se un peccatore si consegna nelle mani del demonio perché questo fa un peccatore ogni volta che commette un peccato dice ameno al demonio gli consegna l'anima capite quindi le altre cose certamente che avvengono per divina permissione ma in senso molto molto generico ma non sono certamente volute da Dio quindi la vita che ti diventa un inferno perché tu hai fatto peccati su peccati consegnandole dal demonio non è affatto volontà di Dio in senso stretto certo che in senso remoto è permissione ma in senso molto remoto cioè una permissione che Dio come dire dà il bene placido per il rispetto della libertà delle cause seconde ma non è certamente voluta la Dio da tutte le vite che ho ascoltato c'è tante storie di vita che ho ascoltato da sacerdote di macerie di istruzioni assolute ma quelle gli uomini si sono andati a cercare moltiplicando peccati su peccati d'accordo invece quando una persona è santa ed è in grazia anche quando arrivano delle pesanti prove pesanti croci può essere certissima che quella è una permissione divina quindi stai è permissione permissione in senso forte quindi non permissione in senso debole cioè lasciamo che le creature facciano quello che vogliono e che i demoni se ne prendano in gioco a causa delle loro colpe no ma permissione alla Giobbe cioè io permetto questa cosa per un tuo bene ma per farti diventare ancora più santo e per provocare attraverso di te ancora più bene nel mondo nella chiesa eccetera quindi questa riflessione è quando lo vedi in maniera mistica rimani stupefatto no diciamo quale potenza dinanzi a te non resta disfatta cioè percepirle in questo modo e ci fa andare oltre la fede e dice ma 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 qui non ce n'è per nessuno ma di che cosa vogliamo parlare insomma ecco quindi Gesù parla però anche qui della fede no queste cose sono date alla nostra intelligenza perché le crediamo fermamente ma dinanzi alla santità di Dio ma chi è che non si sente un verme se la conosce per quello che è ma un verme più nulla un vermiciatto lo dice Luisa che si arrampica grossolanamente d'accordo goffamente e basta che uno ci metta un dito sopra lo schiaccia e lo fa in mille pezzi dinanzi alla santità di Dio no cioè tutte quante le stupidaggini che fanno gli uomini che stanno sempre a pensare a vantarsi di cosa ma che guai se qualcuno non gli riconosce qualche briciolo di bene è pappessimamente fatto tra l'altro ordinativamente che fanno e si imbruniscono e se cosano anche mezza parola storta che ti dicono uno fa una commedia che non finisce mai i rancori i sentimenti per malosità ma che è sta roba qua solo Dio è santo qualunque cosa ci faccia noi siamo dei vermi che ci meritiamo qualunque cosa d'accordo ecco e poi bellissimo quest'altra sua esperienza mi vedo brutto e non ardisco di andare a Dio ma si fa innanzi innanzi alla mia mente la sua bontà ecco l'altro attributo sublime se è santo oppure misericordioso se è potente in sé e anche somma bontà quindi guardate che tutta la grandezza della Madonna ha guardato l'umiltà della sua serva stava in questo cioè quella divina creatura che pure era stracolma di grazia però era perfettamente certa che in sé stessa da un punto di vista perdonatemi il termine ontologico dell'essere era nulla anche l'anima della divina Maria in sé stessa è nulla ed è questa l'umiltà in cui lei è stata si è sempre esercitata fino ad essere assolutamente perfettissima ma capite quando questo c'è tutte le virtù si esercitano tutte le altre cose perché tutto quello che ho veramente è tutto dono di Dio tutto e quindi non posso fare altro che rivolgerlo a sua gloria e spenderlo al servizio dei fratelli e nasconderlo agli occhi degli uomini quando non è necessario trasformarlo in esercizio di virtù a loro utile e basta quindi quanto più noi ci facciamo piccoli davanti a Dio ci mettiamo nella nostra verità e facciamo grande Lui contemplando la contemplazione è una grande cosa d'accordo gli attributi e chi ce la dà la materia della contemplazione qui Gesù fa la lezione sulla fede chi te la dà la materia della contemplazione la fede da dove riconosci gli attributi di Dio dalla fede dalla fede dal catechismo che dobbiamo sapere ecco perché io ho sempre per esempio sono anni che nella mia attività diciamo così apostolica pastorale insisto e continuamente opero in questo modo cioè di introdurre alla fede ai contenuti della fede tu lo devi sapere a che cosa credi quindi io ci credo che Dio è potente che Dio è santo che Dio è buono che Dio è onnipotente che Dio è onnisciente che Dio è immenso che Dio è eterno d'accordo che Dio è il creatore che Dio è il Signore ci credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio con tutto ciò che questo comporta fatto uomo ci credo che è morto in croce non per andarsi a fare una passeggiata ma la morte di croce indirettamente ci attesta e ci comunica la gravità del peccato e le conseguenze del peccato e quanto costa e quanto è costato al figlio di Dio redimerci eccetera eccetera quindi le nostre meditazioni e contemplazioni si alimentano con la fede perché se uno non c'ha la fede qui proprio intende non la fede intesa in senso di fiducia la fidesquela chiamavano i nostri padri cioè la fede ha dei contenuti che sono sintetizzati per esempio nel credo di Niceo Costantinopoli e poi sono esplicitati nel catechismo nel catechismo nel catechismo della chiesa cattolica d'accordo oggi sapete che la chiesa ha scelto una forma diciamo discorsiva approfondita è una scelta ecco un tempo c'era una scelta differente c'era una scelta più sintetica e più magari elementare che oggi dinanzi a cui gli uomini moderni storcono un pochettino le labbra definendola infantile che però aveva il pregio dell'estrema chiarezza in ogni caso a prescindere dalle forme ma noi la fede dobbiamo alimentarla perché senza la fede non c'è niente di questo che stiamo vivendo senza la fede non c'è la fede nella divina volontà la fede serve di vista all'anima cioè io devo raccapezzarmi devo capire devo sapere cosa ci sto a fare sulla terra cosa devo fare cosa non devo fare cosa è vero cosa è falso cosa è bene cosa è male non solo devo sapere lo devo sapere con estrema chiarezza d'accordo ecco poi vedremo nei giorni seguenti che cosa fa la speranza come dire mi mette le ali nel senso che tutto ciò che io credo d'accordo è per me nel senso che lo posso vivere qui subito io posso vivere di fede attraverso la grazia e l'esercizio delle virtù e lo godrò in paradiso questa è la è la speranza non è un c'è se vivo di fede con tutto ciò che questo comporta è passata la purificazione di tutto quello che uno vuole ma io in paradiso ci andrò e poi la carità che è l'alimento sotto della speranza e che l'amore qui questa meditazione cade il giorno dopo che nelle messe domenicali c'è stata proprio la lezione di Gesù sui primi due comandamenti quando si parla di carità la prima cosa che dobbiamo pensare è subito l'amore di Dio la prima cosa perché il primo precetto della carità non è ama il prossimo e amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutte le tue forze una delle pratiche che ho fatto è che anche il prossimo noi lo amiamo non di per sé stesso non perché l'uomo sia una sorta di totem o di creatura semidivina insomma che va quasi idolatrata di per sé come volevano gli illuministi o come vogliono oggi i massoni ecco no noi amiamo il prossimo perché è creatura di Dio perché c'è un'anima che Dio gli ha creato che è unica e irripetibile che è oggetto del suo amore anche quando lui attraverso tutta una vita di peccato l'avesse trasformata in un mostro vivente d'accordo quindi deformandola e deturpandola d'accordo solo per questo noi amiamo il prossimo e per amore tuo amo il prossimo come me stesso di gerato di carità e perdono le offese ricevute domani se Dio vuole approfondiremo anche queste altre due gemme delle virtute locali ed è molto interessante vedere come Gesù vedete proprio contestualmente a questa nuova grande esperienza mistica però riporta Luisa alla fede alla speranza e alla carità come per dire queste cose numero uno le può vivere solo chi ha già la fede alla speranza e alla carità ma numero due non sono altro che esperienze profonde e certamente divine ma di ciò che tu già hai attraverso la fede la speranza e la carità ricordiamo sempre che l'orizzonte ordinario della vita di fede di grazia contiene in sé tutto quello che di straordinario potrebbe succedere che è per questo che la Chiesa ha sempre sentito che non è necessario quindi se Dio te lo dà lo ringrazzi e aspetta di grande croci ma se Dio non te lo dà ricordati che non è necessario alla salvezza perché tutto quello che è necessario è già contenuto nell'ordinalità della vita ed è accessibile a tutti ecco grazie a tutti grazie a tutti durante la meditazione abbiamo volto lo sguardo divina Maria sulla tua inestimabile immensa infinita umiltà che ha tirato su di te in continuazione gli occhi dell'altissimo in questa dinamica fondamentale della vita di relazione con lui tale che quanto più noi ci facciamo piccoli e tanto più lui nella sua immensità ci raggiunge e scende dal nostro nulla appena compare il minimo vapore di superbia Dio si ritrae si allontana immensamente ecco il segreto per averlo sempre con noi è davvero sprofondarci serenamente nel nostro nulla e vivere come un bimbo in braccio a sua madre come dice il Salmo 130 questo è questa è sempre la tua vita divina Maria tu gli attributi di Dio non sei l'unica che riconosce tutti benissime con la massima chiarezza e perfezione possibile e sei il nostro aiuto fondamentale nella nostra ricerca di unione con lui e con la divina volontà proprio perché tu sai perfettamente di cosa si tratta hai vissuto e vivi perfettamente in questo mondo completamente divino e sei vuoi e puoi essere questa è la tua funziona la tua missione strumento tramite ed aiuto perché anche noi possiamo certamente con le debite distanze vivere alla lontana ma in maniera certamente vera quello che hai vissuto tu possa la tua infinita dolcezza bontà e misericordia prenderci per mano e guidarsi nel nostro cammino di fede e sprona incessantemente la nostra anima a non trascurare la formazione della nostra vita di fede perché ci perderemo dei beni immensi non solo nell'altro mondo ma anche in questo mondo e insegnaci che il tempo meglio impiegato è quello che doniamo a Dio e che bene sarebbe evitare di perdere molto del tempo che perdiamo per impiegarlo in cose utili alla nostra anima e deliziose anche che ci avrebbero le porte della felicità già in questo mondo e della beatitudine in cielo nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti e ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Grazie a tutti Grazie a tutti